Zichella, quanto rammarico c'è dietro questo 3 a 3, ma soprattutto questo Teramo nel secondo tempo ha giocato una grandissima partita, cosa che non era accaduta nel primo tempo, ma soprattutto per molte giornate nella stagione regolare, questo è il vero rammarico? A 20 minuti da fine della partita mi chiede quanto rammarico ho, cosa le devo dire? Da 1 a 10, 100, tantissimo rammarico, ho ancora la visione del palo di Gondò, se la palo li va dentro è finita la partita, il calcio è questo e bisogna di nuovo rimboccarsi le maniche e lavorare, abbiamo due settimane per fare il play out. Dall'altro purtroppo non potete nemmeno arrabbiarvi più di tanto, nel senso che non l'avete vinta questa partita perché altrove c'erano delle buone notizie, ora bisogna resettare tutto e concentrarsi sui play out. Sì, da martedì incominciamo a lavorare, abbiamo una settimana di lavoro completo senza avere l'assilo della partita e poi dopo avremo i play out e ce li giocheremo alla grande. Ora crede di aver trovato delle certezze in questa, soprattutto nel secondo tempo, il Terramo visto nella ripresa? Certezze no, perché poi voglio dire abbiamo fatto fino al gol loro, secondo me è un buon inizio del primo tempo, poi dopo il gol di nuovo ci siamo un attimino slegati e giocando con questo modulo dobbiamo rimanere corti sempre, sempre, in qualsiasi momento della gara, sia che prendi gol o che non prendi gol. Noi invece abbiamo preso gol, ci siamo un po' disuniti e loro sono entrati tra le linee. Il Comiser però non è la prima volta che accade in questa stagione, è un Terramo che si fa facilmente rimontare. Non facciamo i play out, facciamo il play out, qualche problema ci sarà di sicuro, quindi voglio dire bisogna cercare di lavorare, lavorare e fare di tutto per salvare la categoria. Ripartire da questo secondo tempo, perché nel secondo tempo contro la Reggiana, formazione di altissima classifica, avete creato occasioni, avete giocato, avete attaccato per 51 minuti e mancato solo il gol. Però da questa prestazione si può ripartire per la doppia sfida col Vicenza? Sì, hai detto bene, ripartiremo da questo, anche se adesso non è facile, insomma, adesso dobbiamo un attimino domani riposarci tutti quanti, io personalmente, mentalmente devo riposare. E poi da martedì pomeriggio rincominciamo da dove abbiamo interrotto, sperando non nel palo ma nel gol. Mister, quanto è dura andare così in questo modo ai play out? E' così nel senso che avremo Ilari squalificato, Graziano squalificato, avremo... Ma anche col fatto che è mancata la vittoria che poteva darvi questa salvezza? E' dura, in questi casi è dura sul momento, adesso mezz'ora, già da martedì secondo me c'è una buona consapevolezza di potercela fare. E cosa mancheranno due giocatori come Graziano e Ilari? Beh, siamo in 26, giocheranno altri due. Tulli cosa ha riportato? Non lo so ancora, sinceramente. Grazie.